Ben tornata, ben tornato Goodyear. Bene, quest'oggi diamo qualche informazione diversa per quel che riguarda il percorso della guida al computer. In particolar modo vediamo dove è presente la guida al computer su internet. Questo perché qualche giorno fa da uno scambio di mail con un frequentatore del canale Goodyear TV presente su YouTube, nello specifico il suo soprannome è Fuoricorto, mi suggeriva delle strategie che potevano essere utili per migliorare la visibilità del sito e del canale TV ad esso collegato. In realtà alcune di esse sono già in essere, però ciò mi ha evidenziato che ho peccato in mancanza di comunicazione a riguardo, specificando in maniera dettagliata, la presenza su internet del percorso della guida al computer, quindi tutte le sue sfaccettature ed ogni tipo di formato nel quale si presenta la guida al computer sui vari siti. Questo proprio per diversificare il formato delle lezioni e quindi renderlo più appetibile in maniera soggettiva ai vari utenti del percorso e ai vari dispositivi. è bene quindi colmare questa lacuna tramite questa lezione particolare. Nel momento in cui una nuova lezione viene pubblicata sul sito padre, e questo di norma avviene il mercoledì, in maniera del tutto automatica, grazie a dei feed rss che tramite il sito feedbarner.com viene recapitata gratuitamente a coloro che si sono iscritti alla newsletter. Questa sottoscrizione può avvenire sfruttando il box in alto a destra presente sul sito padre nella home page del sito, allora potrai inserire il tuo indirizzo mail in questa zona e cliccando successivamente su invia verrai iscritto alla newsletter ed ogni mercoledì o comunque ad ogni comunicazione che avverrà in seguito tramite il sito ti verrà recapitato in maniera automatica e gratuita sulla tua casella di post elettronica. Contestualmente l'articolo appena presentato sul sito padre verrà pubblicato anche sulla fan page di Facebook e su Twitter. Inoltre viene anche visualizzata su Paper Lee. Che cos'è Paper Lee? È in pratica un giornale online a tipica pubblicazione quotidiana in cui puoi pubblicare qualsiasi contenuto web. La lezione viene poi anche inserita su altri siti e piattaforme come Scoop It che in pratica è una piattaforma sito che ti permetterà di creare dei veri magazine specifici in base ad uno o più tematiche da te definite. È un po' un modo per raggruppare in un'unica pagina i tuoi articoli migliori oppure quelli scelti da te da fonti alternative. Puoi creare uno o più magazine dedicati, quindi creare dei canali tematici. Poi è anche presente su LinkedIn che è il social network professionale nel quale girano informazioni tecniche, promozioni di servizio oppure addirittura anche ricerche d'offerte di lavoro. Altra presenza su internet è su Google Plus che è il social network di proprietà di Google che serve a sviluppare anche relazioni e a condividere informazioni stile Facebook che ha come principale differenza quella di poter creare delle cerchie di amicizie o di contatti suddivise per categorie. Puoi creare la cerchia delle tue amicizie, dei tuoi familiari, delle persone che seguono ad esempio i tuoi hobby oppure i tuoi viaggi e altre cose in genere. Poi esistono degli aggregatori raccoglitori di notizie come Ok Notizie nei quali puoi trovare informazioni di vario genere e provenienza. Stesso discorso è valido per un altro aggregatore e raccoglitore come Digita. Quindi gli articoli verranno anche pubblicati su questi raccoglitori. Il numero uno dei social network, credo tu sappia bene, è attualmente Facebook. In questa pagina troverai in sequenza tutte le comunicazioni che avvengono sul sito, quindi tutte le lezioni e nei vari formati. Sotto ogni singola lezione potrai, se vuoi, inserire un commento ed interagire con la stessa. Nel social network Twitter ogni formato della lezione viene riassunto in una scrittura di 144 caratteri, ma grazie ai link integrati ti sarà possibile visionare l'intero articolo o l'intero formato semplicemente cliccando sullo stesso. Paperly è, come dicevo, un magazine, un giornale online a pubblicazione quotidiana, quindi la lezione che il mercoledì verrà pubblicata sul sito padre sarà in maniera molto stringata rappresentata su questa piattaforma. Il lettore, naturalmente cliccando sui link integrati, verrà rimandato direttamente al sito padre. Questa è l'interfaccia di Scoopit, che come dicevamo è una sorta di magazine a tema. Puoi scegliere di creare una o più sezioni nella quale raccoglierai la tipologia, che in questo caso è specifica della guida al computer, e nel quale io ho pubblicato tutti i vari formati, ossia il formato video, PowerPoint, il formato PDF e la lezione pubblicata direttamente sul sito padre. Come dicevo, LinkedIn è il social network professionale. All'interno di questa sezione io scriverò la mia lezione nei vari formati e subito sotto di essa saranno posizionati oltre le mie lezioni anche tutte le comunicazioni che la mia schiera di contatti apporterà sui rispetti i profili. Google Plus è l'alternativa a Facebook per quel che riguarda la socializzazione, quindi lo scambio di relazioni. Qui nella pagina di presentazioni trovi tutte le lezioni nei vari formati e come ho detto in precedenza hai la possibilità di creare, formare delle cerchie, in particolar modo potrai creare delle cerchie di amicizie, delle cerchie familiari, una cerchia di conoscenti o persone che tu segui o persone, come in questo caso, che seguono il tuo lavoro. Il sito OK Notizie di Virgilio è un raccoglitore di notizie di vario genere, qui ho rappresentato alcune delle lezioni che ho pubblicato su questa piattaforma, ma andando nella home page puoi trovare un'ampia varietà di notizie fornite da vari blogger e altri siti. Anche Digita o Digita, come meglio credi, è un raccoglitore di notizie generiche, di varia natura quindi, che potrai selezionare grazie al menu in alto. Ogni lezione viene anche convertita in formato PDF e questo di norma accade il giovedì, che permette poi di pubblicare questa versione su altri siti come Zineval, che in realtà è un convertitore che permette di trasformare e convertire ogni articolo fornito grazie a un URL, ossia un indirizzo, in formato PDF o in formato EPUB per i rispettivi lettori e quindi dispositivi portatili, diciamo sostanzialmente per la versione mobile della guida al computer. C'è anche un'altra piattaforma chiamata Scribd, che è un raccoglitore di svariatissime tipologie di file in formato PDF e non solo, all'interno dei quali puoi creare una collezione tematica, un po' come ScoopIt. Uno degli ultimi social network nati è Pinterest, che ti permette di poter creare una o più lavagne, tipo quelle scolastiche, sulle quali potrai appendere virtualmente, è chiaro, delle notizie, dei video, dei foto o più genericamente dei dati multimediali dalla tua navigazione, quindi dai siti che consulterai, non solo, ma potrai anche apportare effettivamente tuo materiale, scrivendo all'interno di queste lavagne, come se tu scrivessi su un bigliettino tipo Post-it. In questo modo potrai creare una o più lavagne targetizzate. Anche il formato PDF potrà essere visionato sui vari social network che fin qui abbiamo descritto, Facebook, Twitter, Google+, ScoopIt e LinkedIn. Script è la piattaforma che mi permette di inserire le lezioni in formato PDF, che qui sono elencate una dietro l'altra. Sarà sufficiente cliccare su una singola lezione e dopo qualche secondo questa lezione sarà visionabile a pieno schermo in formato PDF. Puoi visionare completamente tutta la lezione in formato PDF e tra l'altro hai anche la possibilità di scaricarla e conservarla sul tuo hard disk. Zinepal è uno dei tanti siti che mi permette di convertire la lezione in vario formato, come ad esempio il PDF per i lettori PDF e il formato EPUB o Kindle per i rispettivi dispositivi mobili. Pinterest è un social network abbastanza recente, ti permette di creare una serie di lavagne, di board, nella quale potrai appendere virtualmente alcune informazioni multimediali. Nello specifico qui ho riportato tutte le lezioni esclusivamente in formato video e PDF che ti permetteranno una rapida consultazione di ciò che tratta la lezione stessa, cliccando sulla rispettiva icona avrà la possibilità di essere reindirizzato alla lezione di quel dato formato. La guida al computer si presenta anche in formato presentazione, per capirci, tipo PowerPoint. Questo avviene di norma il venerdì e potrai trovare questa tipologia di lezioni in formato slide multimediale all'interno della piattaforma SlideShare che è un raccoglitore nato principalmente per condividere, per pubblicare e condividere delle presentazioni didattiche di varia natura, di varie categorie. Anche questo formato di presentazione lo troverai nei vari social network. questa è la pagina in cui puoi visionare tutte le presentazioni PowerPoint che ho pubblicato nel corso di questi mesi. Potrai consultare la lezione e se ti iscrivi potrai anche scaricarla direttamente. Queste lezioni sono visionabili o in formato limitato o a piano schermo cliccando sul pulsante relativo. Infine c'è il formato video che forse è quello più accattivante e coinvolgente. Questo formato video non puoi che trovarlo naturalmente su YouTube. Il re dei social network per la condivisione dei video. Ma non è il solo. Infatti ultimamente ho anche inserito la guida al computer, sempre in formato video, su iTunes, una piattaforma di consultazione, scaricamento di contenuti multimediali gratuitamente ed anche a pagamento che è nata per i dispositivi Apple ma anche adattabile per i PC. Un altro raccoglitore video è Vimeo che è il secondo se vogliamo più conosciuto rispetto a YouTube. Altri due raccoglitori video sono Redux e BlippTV che tra l'altro quest'ultimo ha un aspetto abbastanza simile a quello di una televisione se vogliamo come formato. è naturale poi che la lezione video sarà presente anche all'interno dei social network. Questa è la presentazione a piena pagina della piattaforma Redux che tra l'altro presenta un'interfaccia molto coinvolgente e ti permette di navigare all'interno del canale o dei canali che andrai a visionare. Questa è l'interfaccia grafica della piattaforma BlippTV che ti permetterà di interagire con la lezione che vuoi visionare selezionandola da questa lista. Questa è l'interfaccia del sito Vimeo che ti permetterà di selezionare uno o l'altro video caricato nel corso di questi mesi e qui potrai visionare la lezione grazie al lettore integrato nella piattaforma. Ci troviamo all'interno dello store iTunes. In alto a destra trovi un campo di ricerca, scrivici pure la sigla Guida al computer, danno invio, ti si presenteranno dei risultati. Cliccando sul logo di Pasquina accederai alla pagina dalla quale potrai scaricare o visionare tutte le lezioni caricate fino a questo momento. Come ti dicevo il re della condivisione video è la piattaforma di YouTube nel quale potrai visionare la lezione data e scelta dalla lista che si presenta sul basso oppure da quella laterale nella colonna di destra. Potrai anche interagire con la lezione inserendo a tuo piacere dei commenti alla stessa. Ora potrai chiederti ma qual è la chiave di lettura di tutto questo resoconto, di tutta questa invasione della rete? Beh, sostanzialmente la risposta è presto detta. Lo comprenderai meglio con questo esempio. Immagina un'azienda che voglia proporre un proprio servizio, un proprio prodotto ad un pubblico molto vasto. Credi possa aver successo se questa azienda presenta questo prodotto e servizio solo su una rete televisiva? O raggiungerà meglio il suo scopo diversificando la presenza fisica su un numero elevato di canali e, a maggior ragione, differenziando anche la tipologia commerciale in modo da presenziare su varie piattaforme e vari aspetti come la forma audio sulle stazioni radio, la forma cartacea sui vari giornali e magazine, la forma informatica sui vari siti o i social network. Per diffondere questa mia concezione didattica e quindi creare il gruppo di nominatori dei computer, il più classico dei medio naturalmente è il tuo passaparola, se ritieni valide queste informazioni, ma naturalmente sarà anche necessario presenziare sulle migliori piattaforme e siti nazionali ed internazionali. Comunque il tempo darà sicuramente il suo verdetto. Bene, dopo questa presentazione della presenza della guida al computer su internet, dovuta tra l'altro per ottimizzare la conoscenza di questo percorso sotto le varie piattaforme, non mi resta che darti un forte saluto, ciao a presto da Carlo e alla prossima! Grazie a tutti!